Dopo un po' di ritardo con la ditta, ripartono i lavori per il rifacimento dell'ultima scogliera rimasta da terminare davanti a Bagni Carlo, quindi a Sassogna. Completiamo finalmente il lavoro che avevamo iniziato tempo fa e che finalmente giunge al termine. Dunque oggi sono ripresi i lavori per completare queste importanti attività. Quanto tempo dureranno e se ci saranno dei disagi per la bagnazione? Prevediamo alcuni giorni di lavoro, però nello stesso tempo prevediamo che non ci saranno disagi per la bagnazione, nel senso che abbiamo messo in campo tutte le cautele per far sì che questo lavoro possa avvenire senza procurare disagio a nessuno. E c'è un'altra buona notizia che riguarda Metaurilia? Sì, è un'ottima notizia perché dopo la gara che è stata fatta nell'inverno scorso è stato aggiudicato finalmente l'appalto, un appalto che ricordo essere di 4 milioni di euro con soldi che arrivano da RFI e dalla regione Marche per fare le scogliere a Metaurilia, quindi a sud della foce del fiume Metauro e sono stati affidati i lavori alla ditta Slimar, la stessa fra l'altro che sta completando in questi giorni i lavori qui a Sassonia, quindi siamo contenti perché ci sono tutte le possibilità perché a settembre-ottobre possano partire i lavori anche di Metaurilia. Siamo veramente felici, siamo anche consapevoli che è l'inizio di un percorso che ci porterà a difendere tutta la zona balneare di Metaurilia, dal sud del Metauro fino a Torrette.